La squadra mobile di Reggio Calabria con decine di uomini ha letteralmente assediato una vasta area della Spromonte a Condofuri in una zona impervia nei pressi di una fiumara. Nella notte è scattato poi il blitz che ha portato all'arresto di Giuseppe Pelle, 58 anni, il capo della provincia dell'Andrangheta calabrese, ovvero quel livello che prende le decisioni strategiche che riguardano tutte le cosche. Pelle, sorpreso nel sonno, era ricercato da due anni ed era in compagnia di alcune persone la cui posizione adesso al vaglio degli inquirenti. Giuseppe Pelle fa parte della potente e sanguinaria famiglia dei cosiddetti Gambazza di San Luca, imparentata con un'altra temibile famiglia, quella dei Barbaro di Platì. Deve scontare una pena residua di quasi due anni e mezzo per associazione mafiosa e l'anno scorso è stato coinvolto nell'inchiesta a mandamento ionico coordinata dalla DDA di Reggio Calabria che riguarda il controllo asfissiante che le cosche esercitano sui lavori pubblici nel territorio del regino. Da sempre la sua famiglia si è interessata alla politica. La casa di Bovalino dei Pelle era diventata in passato meta di una vera e propria processione di candidati in cerca di sostegno alle elezioni regionali. Nelle intercettazioni dei carabinieri si delineavano le strategie delle cosche per fare leggere i propri candidati fino a portarli al Parlamento.